Il viaggio con papà Sì perché Rudy sarebbe mio figlio voglio dire ecco La famiglia è inquietante, sembra che siamo due gocce d'acqua Sì, e... Siamo due gocce d'acqua Ma io sono ancora un po' Dai, però Se vediamo certe foto mia da ragazzo più o meno ero così No, devo dire che ci siamo noi e poi la famiglia Angela Piero Angela che ho già detto la settimana scorsa Piero Angela e Alberto Angela si chiama Quark, noi facciamo quacuaracuagni Allora, Rudy È il momento di fuori secondi anche di presentare così i nostri ospiti I fuori secondi sono proprio 60 secondi che diamo ai nostri ospiti Per dirci un pochino la loro sull'argomento della puntata Quest'oggi parliamo di medicina Esatto, apparirà un timer in sovraimpressione E in un minuto, iniziando appunto dai tuoi ospiti In un minuto cercate di dire la vostra riguardo terapie, medicina, cose varie Esatto, allora vado subito a presentare i miei ospiti Abbiamo un ospite d'eccezione quest'oggi Insomma, da tanti successi recenti Mauro Marin, vincitore del Grande Fraterno Facciamo un applauso Grazie, benvenuto Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti